Faccio i piedi verso il giusto! Più su, più su! Adesso, vai dietro! No, adesso! Adesso! Attenzione! La parola è la manatezza! Brava! Punta, 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 punta! Punta i piedi! Punta i piedi! Girati Elena! Girati! E' pronto? Si fermi, professore! Girati! Saluta! Saluta! Ciao! Lascia le mani! 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 Girati! Aspetta però! Aspetta! Eh, vabbè, mo' facciamo il calendario! Facciamo, professore! Aspetta! La Wonder Woman! Eh, questo che è? Settembro! Allora, professore, non si preoccupi! Fammi vedere il genio! Giugno com'è? Giugno! Febbraio, febbraio! Febbraio, febbraio! Ammai! Sembra, fincite a scelta! Venetela! Guardaci! Guardaci! Grazie! Grazie! Vai, cip! Vai, cip! Vai, cip! Grazie! Grazie! Noi, divertiti! Sì, io! Non andava poco quanto!